I carabinieri di San Donato di Piave hanno scoperto un casolare abbandonato nella campagna di Musile di Piave, dove si produceva e confezionava la droga, in via Forcassona, zona Millepertiche. Quando hanno fatto irruzione domenica mattina, i malviventi stavano ancora dormendo. Cinque le persone arrestate, un 33enne nato in Svizzera e residente a Musile, proprietario dell'immobile, un 29enne belunese e uno casertano, un 23enne torinese e l'unica donna del gruppo, una 21enne di Rovereto in gravidanza, tutti pregiudicati, eccetto il proprietario del casolare. All'interno c'era materiale illegale, droghe sintetiche e le strumentazioni per confezionare le dosi da smerciare. La scena che si è presentata agli occhi dei carabinieri è stata raccapricciante per la mancanza di norme igieniche e il degrado in cui vivevano i cinque. Dormivano su materassi luridi per terra, rifiuti abbandonati ovunque, escrementi di animali e sporcizia, lastre di eterniti in giardino. È stato necessario richiedere l'intervento della polizia locale e degli ispettori dell'ASL per la valutazione igienico-sanitaria del posto. Lo stabile è stato dichiarato inagibile, con conseguente richiesta di ordinanza di sgombero. È intervenuto anche il personale veterinario per la presenza di quattro cani regolarmente detenuti, prelevati e trasportati in canile. Le droghe trovate, 70 ovuli per un totale di 700 grammi di ascis, un sacchetto con 70 grammi di chetamina e svariate dosi di metanfetamina, MDMA e marijuana, sequestrati anche quasi 4.000 euro in contanti. Sono stati portati tutti nel carcere di Venezia, tranne la ragazza, che essendo incinta è stata condotta in una struttura assistenziale. Lunedì il processo di convalida degli arresti, ottenuta per tutti, anche se la custodia cautelare in carcere è stata disposta solo per il proprietario dello stabile. Per gli altri il divieto di dimora nella provincia di Venezia.